eccoli arrivano pronti terzo giro e in arrivo la gara ciclistica SC Donate Cioppino chiudere la strada, accostare i bordi della strada e in arrivo la gara ciclistica SC Donate Cioppino chiudere la strada e in arrivo la gara ciclistica SC Donate Cioppino far accostare l'autovettore e in arrivo la gara ciclistica SC Donate Cioppino e in arrivo la gara ciclistica SC Donate Cioppino chiudere la strada e in arrivo la gara ciclistica SC Donate Cioppino Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti